Ciao a tutti, sono Guilherme Zacchio, 27 anni e sono di Milano, ma ho anche appoggio su Roma. La passione per la recitazione mi nasce a 13 anni, quando dopo il primo spettacolo teatrale la scaricata di adrenalina che mi è rimasta in corpo mi ha fatto iniziare a pensare che questo potesse essere il lavoro della mia vita. Anche se fin da piccolo mi ricordo che ricreavo le scene di cartoni animati insieme alle mie sorelle e mi divertivo un casino, quindi già quello era appunto un segnale che questo poteva essere il lavoro della mia vita. Mi reputo un sognatore, sono un sognatore, infatti uno dei miei più grandi obiettivi è riuscire a calcare i grandi palchi internazionali, non solo italiani. Mi reputo una persona tranquilla e socievole, sono molto legato alla mia famiglia, ai miei amici, per loro fare di tutto. Uno dei motivi, sono il più importante per cui ho scelto di fare l'attore nella vita è anche perché mi piace trasmettere emozioni alle persone. Non farle sentire più leggere, non fargli pensare a qualsiasi altra cosa negativa nella vita e questo mi piace molto. Però non disegno neanche le altre emozioni, quindi gli altri generi di recitazione. Questi sono i miei profili. Questi sono le mie mani. Certi sono i miei profili. Grazie.